Digitalizzazione e distretualizzazione delle reti idriche. Un nuovo sistema di controllo che sfrutterà le più avanzate tecnologie e consentirà di ridurre gli sprechi anche in Abruzzo, regione che si colloca a livello nazionale secondo l'Istat con un più 13% rispetto alla media nazionale. In Italia si perde il 42% dell'acqua trasportata, un dato che corrisponde a oltre 150 litri di acqua sprecata al giorno per abitante. È una prima mappatura, cioè con la digitalizzazione si avrà la fotografia di tutta la rete, di tutte le reti abruzzesi e la fotografia quindi la capacità meglio di controllare dove ci sono le perdite, dove la pressione è troppo alta e quindi fa saltare le condotte e dunque dopo aver digitalizzato e controllato tutta la rete si potrà andare ad individuare i vari punti dai quali partire per ad esempio sostituire le reti. Se serve cambiare i livelli di pressione per evitare rotture e dunque è l'inizio della risoluzione dei problemi. Chieti Maglianera con il 70% di dispersione a cui si aggiunge il non censito, circa 100 utenze, eppure potrebbe diventare presto città virtuosa perché il progetto partirà proprio nell'area Teatina, anche se ora si attende alla fine dei lavori che l'ACA sta realizzando per la costruzione di una nuova condotta di collegamento tra il serbatoio di Madonna della Vittoria e la rete idrica scalina. I fondi del PNRR destinati alle sei società di gestione per questi progetti sono complessivamente 66 milioni di euro, quindi non pochi. In sede di commissione d'inchiesta sull'emergenza idrica in regione Abruzzo, durante l'audizione del presidente dell'ERSI, Nunzio Merogli, è stato annunciato anche che le sei società di gestione del servizio idrico si doteranno di un unico sistema unificato di controllo attraverso una ATI, una società temporanea d'impresa. Il primo passo è quello di cominciare a pensare questa regione come una cosa unica, cioè all'Abruzzo come cosa unica, e questo vale per tutti i contesti. In questo piccolo spazio che ci siamo presi con la commissione d'inchiesta, qualche risultato si comincia a vedere. Se posso aggiungere l'ultima cosa, sono contenta di poter dire che anche da consigliere regionale di opposizione sono riuscita ad ottenere dei risultati, quindi a mio avviso l'opposizione non è solo indicare i problemi, ma anche e soprattutto cercare delle soluzioni.